Grazie ad un finanziamento di oltre 313 mila euro concesso dal Ministero dell'Interno e a un cofinanziamento comunale di oltre 50 mila euro, la Culla dei Vivai, cioè Mazzarra Sant'Andrea, potrà realizzare un impianto di videosorveglianza. Le risorse sono state ottenute dopo che l'amministrazione di Carmelo Pietrafitta ha aderito al patto per l'attuazione della sicurezza urbana prospettato dalla Prefettura di Messina. In ragione di questo accordo, il Ministero ha già trasmesso un accredito in acconto per circa 157 mila euro. L'invio di queste risorse ha fatto scattare l'appalto per la direzione dei lavori e la progettazione definitiva ed esecutiva affidate all'architetto Filippo Baglione di Furnari per l'importo di oltre 36 mila euro. L'importo dell'impianto di videosorveglianza invece di 364 mila euro. Le funzioni di RUP sono state assunte dal responsabile dell'area tecnica geometra Giuseppe Di Natale. Il territorio è un crocevia sulla strada statale 185 e si caratterizza anche per molteplici aziende del settore florovivaistico dislocate in svariate zone della città. Si deve salvaguardare la sicurezza con presidi sulla piazza comunale principale, il parco urbano, meta di giovani e gli edifici scolastici che sono divisi in più plessi. Queste le aree da monitorare, il palazzo comunale, il crocevia Corso Vittorio Emanuele III, l'incrocio con Corso Principe Umberto che connotano l'ingresso lato nord del paese sulla statale 185, il crocevia con trada chiusa Oliveto, la strada comunale Molino che rappresenta l'ingresso lato ovest del paese, poi piazza Umberto I con locali pubblici e dunque con un maggior afflusso di persone, il parco urbano, i campetti comunali di ritrovo giovanile vicini al municipio ed alcuni plessi scolastici.